E tra l'altro, forse anche dai tuoi social, si nota ancora che tu curi fino a un certo punto il lato personaggio. C'è ancora tanto Matteo, no? Esatto. C'è un sacco di Matteo dietro a questa roba. Tanti non lo percepiscono, io intanto sui social per culo. Sì, di brucio. Infatti, adesso lo possiamo fare. Ogni tanto noi ci facciamo un paio di risate. Perché vuol dire che io sono a casa, che non so cosa fare. Mi piango da ridere. Io a volte, tra l'altro pubblichi alcune risposte, ti scrivi, cioè non ci credo, capito? Fantastico. La storia di Simone Francesca è stata una cosa che io avevo le lacrime. No, incredibile. Avevo le lacrime. Io sono incredibile. Poi vabbè, nel senso, sono tante, da lì esce molto anche questo tuo rapporto ancora sereno con questa cosa. Lo è ancora. Che è una gran figata e che tienitela stretta perché... Speriamo al più lungo possibile. Spero che ti possa durare anche perché sei uno dei pochi ed è una cosa molto figa, secondo me, anche come uscita.